perché si torna a sciare sul ghiacciaio dello Stelvio dopo la chiusura delle piste nel luglio scorso a causa del grande caldo e della mancanza di neve. E da lì, eccola qui in diretta, per noi c'è Silvia Zirilli, a te. Sono state circa 300 le persone che oggi sono appunto tornate a sciare al ghiacciaio dello Stelvio. La schiarea estiva era stata chiusa esattamente due mesi fa per il troppo caldo. Pensate, siamo a 3.000 metri, fa parte del gruppo Hortless Cevedale, eppure il 20 luglio per le temperature troppo elevate fu chiusa. Riaperta oggi, lo zero termico è a 2.900, è nevicato e soprattutto le temperature sono consone alla stagione, quindi la neve si mantiene. Non soltanto turisti a sciare, questa è la ski area estiva più estesa d'Europa, sono tornate ad allenarsi anche le nazionali di sport estivo come ski cross e snowboard cross. Dallo Stelvio è tutto, la linea allo studio.